Signori, finalmente, come ogni fine settimana, siamo tornati nel Master Responde, la rubrica più seguita di YouTube Italia, ma anche no! Oggi andremo a rispondere ad altre domande, non so quante ce ne sono, risponderò il più possibile, vi invito a lasciare un piace, un commento, lo sto dicendo senza respirare, un qualcosa che vuole iniziare. Prima domanda della giornata di Dark18Night, intanto vi invito sempre a fare altre domande, tutte quelle che volete, ovunque, sempre per sempre, non so cosa ho appena detto. Prima domanda, aprirai mai un canale Reddit? Allora, per adesso no, magari in futuro, sì, lo devo anche scaricare, quindi magari in futuro. Seconda domanda, come mai in ogni gioco ti chiami Master99? No, Master, perché Mr. Pinoz ho 99 anni. Risposta sbagliata, ok, perché sono nato nel 1999, quindi sono del secolo passato, e mi piace inserirlo nei giochi o in qualsiasi altro sito mi registri, sì, in tutti i siti sono Master99, ok? Avete scoperto la mia password. Terza domanda, ma da oggi come un treno stiamo andando? Sì, questo era il treno che passava, terza domanda. Qual è il mio anime preferito? Il mio Attack on Titan, cioè il tuo, però è scritto il mio, ma non il mio, si intendeva il suo. Il mio anime preferito è, vabbè, tipo Dragon Ball è considerato un anime. Sì, Dragon Ball è un anime, leggendario, storico, quindi Dragon Ball, auto 5 per Dragon Ball. Invece degli anime più recenti, perché dai, Dragon Ball è un po' vecchio, vi faccio uno vecchio, che è Dragon Ball è uno recente. Come si chiama? Allora, Omirai Nikki, strabello, vi invito una donna a vedere. Oppure ReZero, che so che molti di voi l'hanno visto. Quei due sono molto belli, ve li consiglio. Sempre Levi, doppia domanda di fila, ma do, ha fatto la doppietta. Porterai ancora a Rocket League, sì, in live su Twitch, quindi andatemi a seguire su Twitch che giochiamo insieme. Do precedenza ai abbonati, ma se non c'è nessun abbonato che vuole giocare, gioco con voi. Prossima domanda, come ti è venuta l'idea di aprire un canale YouTube? Ti aspettavi questo risultato? Come mi è venuta l'idea, a caso mi annoiavo, però ho deciso di aprirlo. Mi aspettavo questo risultato, si può sempre fare meglio. Farai il tour della mia camera? Ma do, è mesi che me lo chiedete. Ogni volta vi rispondo, sì, dai, a breve ve lo faccio. Non l'ho mai fatto, quindi a breve ve lo faccio. Farai un Draw My Live? Ma do, il Draw My Live è tipo datato, boh, tipo 2016 style. Però figo, sì, sì, però deve essere tipo a un mega obiettivo di quelli belli ciccioni. Quindi, calmo signor Castoro, calmo. Quando ho aperto il canale, boh, ottobre, novembre. Se andate nel canale, lo vedete. E poi c'è Tempest che mi chiede dello stipendio. Ma di questo ne parleremo dopo. Quanto guadagno ogni mese? Dipende, più faccio video, più si guadagna. Avevo anche fatto un video di quanto ho guadagnato con 100.000 views. Vi invito ad andare a vedere, magari ve lo metto in descrizione se c'è voglia. Ma di sicuro non c'avrò voglia. Allarme Black Humor. Andiamo avanti. Cosa ne penso del Cave Update, quindi ambito Minecraft, che è molto figo. Molto, comunque stavo molto allungato. Allungatelo ancora un po' là. Figo. Sì, non vedo l'ora che arrivi, ma se non sbaglio, in caso scrivetelo nei commenti, dovrebbe arrivare nel lontano 2021. Verso la primavera estate, non mi ricordo. Comunque dovrebbe essere nel 2021. Scrivetelo nei commenti. Prossima domanda. Non ti fa strano vedere l'emoji con le tue facce? No, mi piace un botto. Vi giuro, mi piace un botto. Ci sono tre obiettivi nella vita. Avere l'emoji delle mie facce e gli altri due non si sanno. Ancora però il primo è avere l'emoji delle mie facce. Devastante. Signor Masson. Do molto regale il signor Levi. Dato che nel primo Masson risponde avevi detto che sei fidanzato. Ah, bravo, ti guardi i Masson risponde, signor Levi. Bravo, sei stato bravo. Ci mostrerai mai la fortunata? Sì, si può fare, si può fare. Un giorno ve la potrei mostrare. Quando aprirai il server? Ah, tra parentesi, il server è già aperto. Queste domande sono vecchiotte. Perciò, se venite su Twitch e ci giochiamo insieme, o entrate nel server Discord, ci farei solo un video ogni tanto quale lag, oppure fare una serie dedicata? Ci faccio di tutto. Ci faremo dei video, ci faremo delle live, ovviamente, specialmente live. e una serie, non lo so, se mi viene in mente qualcosa, ce la faccio. Qual è il mio gusto di gelato preferito? Ok. Puffo. O fragola. Fragola al puffo. Puffo alla fragola. Prossima domanda. Cani o gatti? Cani. Pizza kebab, pizza, ma madò il kebab, madò. Vi racconto la storia di quella volta che ho fatto un'intossicazione alimentare per colpare il kebab e non l'ho più mangiato. Madò, era in lontano 2015, che ridere. Tipo avevo preso un kebab, era tipo una delle mie prime volte, 2014-2015. Ho detto, ma sì, dai, cosa succederà mai di male? Prendo il kebab, ovviamente senza scippola, chiaramente, kebab senza scippola. E niente, lo mangio. Fì lì, tutto a posto. Non è che mi ispirava molto. Ho detto, ok, non è il mio cibo preferito, ma ok. Neanche, vi giuro, neanche tempo un'ora, ero lì piegato in due, madò un mal di pancia. Intossicato alimentalmente. Una settimana a casa, boom morto, fine. Ciao. Mai più kebab, dal 2015, mai più kebab in casa massa. Prossima domanda. Cosa ne penso riguardo alla pena di morte? Cioè, passiamo da cani, gelato, kebab, Minecraft, pena di morte. Ok, server. Ok. Ehm, no, penso, domanda fuori luogo, ma curiosa, esatto. Penso che sia sbagliata. Dio, no, voglio farci un discorso di dieci minuti sulla prima volta. Comunque, buttiamola lì. È sbagliata. Fine. Anzi, è peggio rimanere in carcere, tipo, tutta la vita, che morire. Fidatevi, è noiosissimo stare in carcere. Ma come fai a saperlo? Ci sono stato. No, scherzo. O forse no. Scherzo. No, comunque... No, sarebbe... No, è sbagliata la pena di morte. Comunque no, non sono stato in carcere. Amici? Beh, piano mi credete. Quindi, amici, le domande per oggi le abbiamo terminate. Vi invito, come sempre, a farmi le altre nel server Discord o qua sotto nei commenti. Non so, ma è più comodo il suo Discord. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani, come sempre, alla solita ora, ovvero alle due e mezza, con un nuovo video. Ciao! 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 Ciao!